da wikipedia terzo occhio anche noto come l'occhio interiore nell'ambito di certe tradizioni religiose ed esoteriche è ritenuto un organo capace di percepire realtà invisibili situate oltre la visione ordinaria viene localizzato poco sopra la radice del naso in un punto centrale della fronte denominato ajna in sanscrito all'altezza del bordo superiore delle sopracciglia qualcuno dice che si tratta di una connessione con dio e nel video censurato del 2018 attraverso indice alfabetico dal titolo di tutto un po è il gene di dio dal minuto 2 e 06 magari scoprite qualcosa di interessante ma torniamo a pin occhio vediamo cosa dice mister astro teologi la ghiandola pineale il terzo occhio se leggiamo la storia di pinocchio la parola pinocchio è composta da due parole pin che corrisponde a pigna e occhio esattamente come si pronuncia quindi pin occhio significa ghiandola pineale pinocchio è un burattino un fantoccio non è una persona vera per diventare una persona vera per ascendere dovreste attivare la vostra ghiandola pineale dovreste smettere di raccontare menzogne dovreste smettere di essere ingannati dai vostri amici dovreste smettere di andare ai circhi e agli spettacoli come hanno sempre detto tutti i filosofi di ubriacarvi di intossicarvi con le droghe e stare sobri quindi la ghiandola pineale è il terzo occhio è la vostra consapevolezza più elevata se desiderate diventare veri semplicemente leggete la storia di pinocchio e attivate il vostro pin occhio aggiungo studi scientifici hanno confermato che la ghiandola pineale connessa direttamente con onde dimensionali superiori e col corpo ma il sistema che ci controlla e comanda attraverso il cibo attraverso le distrazioni ha e continua a distanziare questa possibilità di connessione facendo sì che anziché vivere come persone vere viviamo come degli zombie loro quelli che dirigono sanno quello che fanno pochi di noi invece lo sanno proprio perché sono zombie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti